A proposto la risoluzione del contratto per il sindaco Lucio Greco non ci sono altre alternative. Il rapporto con Caltacqua va bloccato per inadempienze da parte della società italo-spagnola che detiene la gestione del servizio idrico integrato in tutti i comuni della provincia di Caltanissetta. La sua posizione il sindaco l'ha messa a nero su bianco a conclusione dei lavori della commissione tecnica chiamata a valutare la qualità del servizio reso e il rispetto del contratto. I componenti della commissione nella quale Greco ha chiesto tenuto di entrare subito dopo la grave crisi idrica di quest'estate hanno concluso i lavori. È stata redatta una relazione che verrà trasmessa alla regione. Tutti i verbali e la stessa relazione appunto verranno trasmessi a Palermo. Dalla regione potrebbero chiedere altri approfondimenti. Il comune di Gela ha definito in ogni caso la propria posizione e il sindaco si dice pronto a sostenere tutte le verifiche del caso. Sulla stessa linea di Greco ci sarebbero il primo cittadino di Caltanissetta anche se in maniera meno decisa. La rappresentanza sindacale è quella dei consumatori piuttosto scettico rispetto alla gestione. Di Caltacqua sarebbe anche il funzionario della regione che ha preso parte ai lavori. Decisamente contrario all'interruzione del rapporto invece pare essere il commissario del lato CL6 Rosalba Panvini che ha presieduto i lavori della commissione. Nel corso dell'attività di verifica sono pervenute relazioni sullo stato del servizio praticamente da quasi tutti i comuni del Nisseno. I manager di Caltacqua invece hanno inoltrato delle contradduzioni con le quali giustificano i disservizi che vengono addebitati all'azienda. Da tempo anche il sindacato si è schierato contro la gestione privata e il segretario confederale della Cisle Emanuele Gallo ha più volte chiesto trasparenza nella gestione dei lavori della commissione ma soprattutto di rivedere il rapporto con l'azienda privata che tra le altre cose ha determinato un costante aumento dei canoni e delle bollette a fronte di un servizio che in città è del tutto inadeguato.